Il Sanzeno, Reciotto di Soave di Ocigi, della cantina Fasoli Gino, è un vino che esprime l'essenza e la tradizione del territorio veneto del Soave. Di un colore giallo-dorato intenso, il Sanzeno Reciotto si duce immediatamente con un buchè aromatico ricco e complesso, dove emergono note di albicocca disidratata, mele d'acacia, agrumi canditi e una leggera sfumatura di spezie dolci. Al palato, Sanzeno si rivela dolce, ma bilanciato da un'acidità vivace che evita ogni sensazione di stucchevolezza. Le note di frutta matura e miele si fondono con toni di vaniglia e caramello, in un finale persistente e avvolgente. Questo vino si abbina perfettamente con pasticceria secca, formaggi erborinati e dessert al cucchiaio. Il Sanzeno di Fasoli Gino è un omaggio alla maestria vitivinicola di Soave, un calice di puro piacere e tradizione. Se la videodegustazione ti è piaciuta, lascia un tuo commento ed un mi piace. Se puoi desideri diventare un vero degustatore di vino in un tempo brevissimo, non perdere il nostro videocorso gratuito. Lo trovi sul canale YouTube, ma per accedere a tutte le informazioni in modo organizzato, ti consiglio di visitare subito il sito divinosapere.it. Il corso è completamente gratuito, non c'è alcuna richiesta di iscrizione, non chiediamo né la tua mail né i tuoi dati personali e potrai ripetere il corso tutte le volte che vorrai. Il vino ti sta aspettando e tu invece che cosa aspetti? iscriviti al nostro canale! Grazie a tutti.